radio bruno in diretta dal festival di sanremo amici di radio bruno che bello avere nella nostra postazione max gazzè ben ritrovato stare qui con voi e ogni volta un piacere un accogliente ogni volta che vengo da voi avete una allestito una situazione molto molto confortevole grazie per questa bella niente ma grazie a te naturalmente dirlo anche no praticamente sanremo ci hai stupito con questa leggenda che ha una grandissima storia d'amore interrotta da queste terribili sirene interrotta diciamo che questa interruzione ha fatto sì che la storia avesse un epilogo molto più romantico rispetto a quello che si è interrotta la storia ma gli ha dato un'altra dimensione alla storia gli ha dato una una dimensione oltre oltre il tempo e oltre la morte per cui è una storia eterna è una bella storia che è emozionante non so perché forse va a toccare qualche 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 archetipo nostro che fa sì che noi possiamo tutti immaginare o forse in fondo sappiamo che che l'amore va oltre il tempo e anche oltre la morte lo sappiamo inconsciamente e probabilmente questa questa storia va a toccare proprio quella quella percezione insomma max siamo arrivati al tuo quinto sanremo a proposito di sensazioni sul palco come più si fa sanremo più cresce l'emozione diminuisce stavo riflettendo proprio su questa cosa ieri io credo che i sanremi che si fanno saremo quando l'ho fatto vent'anni fa non avevo nulla da entravo cantavo facciamo quello che quando hai delle aspettative tutti dicono la canzone molto bella io poi insomma sono un performer per cui mi piace suonare dal vivo sto sempre suonare dal vivo sono tanti anni sono veramente però in queste situazioni così che entri e canti a freddo e devi dare il massimo è sempre è sempre una sfida è sempre l'emozione che comunque compromette un po quello che tu realmente vorresti comunicare il momento in cui stai raccontando una storia quindi ieri sera ho accantato e stavo raccontando quello che stavo dicendo allo stesso tempo ero anche molto emozionato e quindi mi sono dimenticato di prendere fiato in alcuni punti insomma ho fatto quegli errori da da dilettante qualche modo che però ci sta perché sanremo ha proprio questo questa caratteristica ora di spaventare chiunque anche i più esperti ma è bello così e però c'è questa cosa questa soluzione dico perché mi fa piacere come come mettere a confronto questi aspetti nella è come quando una donna partorisce no anche poi c'è quell'ormone che fa dimenticare il la sofferenza del parto no chi va a sanremo è un'esperienza bellissima c'è la canzone però io sono stato ieri pomeriggio era tutto il giorno in ansia capito era veramente stato ma perché me lo domandavo quindi mette più c'è più c'è la consapevolezza e più si sente la pressione di sanremo pressione che potrebbe aumentare oppure no venerdì con il con il duetto proprio studiato ad arte no secondo me invece no perché proprio è la prima sera il momento più traumatico poi dopo tutto il pezzo già l'hai cantato insomma è sempre emozionante sempre c'è quella tensione ma la tensione della prima sera sanremo secondo me è indescrivibile chimica c'è chi lo fa i miei colleghi che fanno la stessa cosa sanno di che sto parlando certo e però già le seconde volte sono già il giovedì io canterò giovedì venerdì e sabato ecco per venerdì cosa succederà venerdì questo brano che ha un assetto sinfonico per cui è tutto strutturato intorno all'orchestra sinfonica verrà suonato insieme a due musicisti due miei amici bravissimi due eccellenze della musica sono roberto gatto e rita marco tulli e loro sono le persone con cui ho condiviso una bella esperienza live qualche anno fa in giro a suonare e sono sicuro che con loro riuscirò a dare un'interpretazione di questo brano in versione pop questa volta diventa però con l'eleganza di 22 musicisti straordinari come loro e allora non vediamo l'ora di sentire anche questa versione del venerdì ringraziamo max gazzè tu lo sai che le porte di radio bruno sono sempre aperte torna quando vuoi guardi vado subito di la a mangiare tutto il cattolino grazie a max radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con griss in bond modena giochi alessara guest house mondo convenienza rosanna alpi concessionaria rino franciosi cornacchini ods giocattoli e biper banca